La mamma sta bene? Sì, sta bene. Guarda, riconosci la casa laggiù? Sì, è la casa di zia Diane. Esatto. Ehi, certo che fa un bel caldo qui, eh? Io non sento caldo. Avremmo potuto... Avremmo potuto... Avremmo potuto... Potrei... Comincia a piovere. Aspetta, ora accosto. Ora accosto. La mer... Convoi d'antica... Papà, che ti succede? Papà, papà! A dei riflessi d'argent... La mer... A dei riflessi d'argent... La mer... A dei riflessi... La mer... A dei riflessi... Che ti succede? Che ti dice? A dei riflessi... Ma che ti succede? A dei riflessi d'argent... e le ricordate un tempo che vi incontro viceversa